quando vuole lei signor ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video game play di una nuovissima serie che tratterà tratterà è bello dire un nuovissimo gioco non è nuovissimo il gioco per noi è nuovissimo perché l'abbiamo acquistato da poco che è disamorato è nuovissimo te lo dico io perché è nuovissimo perché il nostro primo video di questo gioco sei un furbone tu ok ok in italiano disonorato sì non mangiarti la polvere ok ok possiamo partire possiamo partire c'è di consenso avete detto sì beccatevi sto beccatevi sto game play ok io direi di iniziare con una bella nuova partita hai notato che cosa ha sulla mano il personaggio c'è un tatuaggio illuminoso ok io lo voglio ok io farei nuova partita sì anch'io però io direi allora allora faccio vediamoci prima tutte le facce e lui è un gran bel ragazzo bisogna metterlo scappettato bisogna metterlo che è un gran bel ragazzo e c'è scritto un'esperienza leggera per i giocatori alle prime armi o per chi deve dividere mouse e tastiera grazie la parentesi il danno inflitto dai nemici è ridotto in ripristina della tua salute è migliorata le pozioni sono più efficaci già mi piace sì infatti normale la furtività e il combattimento sono relativamente impegnativi il danno ai nemici e le figate sono standard ok e qua c'è mascherato è già qua tipo di gira vabbè molto elevato molto difficile minchia no io farei facile solo per per allora usufruire di un gameplay migliore fa una cosa siccome noi siamo bravi metti molto difficile vabbè sei impazzito no metti molto difficile eh fatto ok metti ho finta che mi è messo molto difficile non inganni nessuno facile facile luminosità io l'avevo aumentata l'altro giorno nelle impostazioni hai giocato nel satirmi niente sì si evitiamo rotture di coglioni ah la cosa è che l'uno più scuro diventa appena visibile vabbè si vede quindi vabbè si si vede per ora ma su youtube è l'oscurista giusto creando una nuova partita lecenti salvataggio domani ci saranno sopra sì come non ce n'è infatti siamo in città corvo se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidare ti avrei tenuto vicino a me ma purtroppo non c'era alternativa e il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te la peste ci sta decimando e dobbiamo trovare una cura quando tu segui mi sento in pace mi ha ambientato emile ed io conteremo i giorni fino al tuo ritorno fai fretta e torna con buone notizie spiegati o fai fretta ma quindi penso che ci voglia su wasd per camminare direi fiume w 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 ci siamo ma queste cose non le dice mollate ci vogliamo wow puoi muovere la usa le mani se vuoi guardarti intorno vinta allora è fai io va bene bella la pistola la eh sembra una specie di ma che cazzo è Mussolini con il ma vedi che sembra un attore con sta faccia ma gilwitz no con la destra questo Mussolini un attore no ma sembra Mussolini guardalo forse è mettato in quel periodo forse no no che cazzo di come sembra più steampunk un periodo inventato poterlo anche d'ars serve aiuto contro la peste allora peridola vestilenza alla faccia sgurba visto no no è proprio lui che era l'ario si incastrano non passiamo si stanno andando in fogna non si può sapere ragazzi si sale ascensore attivo le pompe e si sale ho capito evviva le pompe evviva le pompe guarda che marchi un gemmio assurdo casa dolce da minchia calzini fescio va a scendere l'acqua di là guarda i calzini a righe stile reggbista non è una via al bacio lui che c'ha pure mi sembra che fanno forte la stessa squadra chiudete tutto gli danni in dotazione le imperatrici ti stanno aspettando corpo questo è il periodo di come si chiama premio 4 ok ok nuovo obiettivo fai rapporto all'imperatrice nuovo obiettivo spostati che è la freccia che ci indica dove andare c'è il puntino quello al centro così che puoi l'imperatrice è 54 metri andiamo e lui c'è affe parla vabbè fregati sì la pressione era bassa sì ma se lui si dà una mossa ma cammina tu lo superiamo sì vieni là sopra se corre signore domanda domanda corvo sei tornato corvo sei tornato che bel nome però corvo dimmi del tuo viaggio col veone dei miei animali cioè vieni là ma non aspetta giochiamo a nascondino ora io conto e tu ti nascondi ma c'è tempo mamma sta parlando con quel vecchio accettivo capostia ma vabbè dici no beh scusa e mi fate domandere la tua madre è stata finchia mi ha fatto uscire il cervello sa tanto di offesa mi piace come risposta scusami mi faccio domandare la tua madre può essere che noi siamo il tuo padre va bene andiamo da mamma andiamo da mamma dai maiuscolo per scattare ma mamma è di là guarda gli sta prendendo il ritratto è tornato a casa ovunque tu sia stato posso fare il doppiatone bravo il mio elisir può liberare la città dalla peste ora state fermo un momento alto sacerdote Campbell Campbell vediamo il quadro non somiglia parla con Sokolov Sokolov hai visto come ho migliorato la chiusa? cos'è la chiusa? tu che... la chiusa? non lo so non penso sia una cosa di disegno grazie motorone che passa ok il signor birra moretti ufficiale birra moretti il signor bar è un birra felice di rivedervi anche a lei grazie ho capito che fate la birra al limone sai come la chiamiamo? testa appunto testa appunto abbaffatore testa appuntita oh e lei? no lei è la bambina ma sarà là la bambina? no no è più veloce di quanto pensi ehi la cameriera carina c'è vabbè dai dobbiamo andare dalla... la direzione sono persone malate non dei criminali hai capito? vostra maestà ne abbiamo già parlato quali sono vestibari sarà possibile li salveremo dalla peste tutti quanti minchia è una brava imperatrice io pensavo fosse tipo quella acida e invece... tipo uccidere tutti invece no vorrei curare mamma corvo è tornato grazie cara non mi intesso lasciateci solo come volete vostra maestà ecco ma tenete subito che già mi sono rotta le valli di te brutto pelatone ma poi tutti i pelati sono in questo modo eh perché giustamente con corvo da due giorni d'anticipo continui a sorprenderci come sempre capito però bella la grafica mi piace non poco eh anche la location mhm in presidio dai dai andiamo da sei dai dai ci siamo ci siamo ci siamo tre ok dai basta non è detto il vento che ti ha riportato qui che notizie mi porti hai poche parole allora l'imperatrice consegna la lettera l'imperatrice il jasmin è un neo hai visto mhm ok fatto prima missione ragazzi conclusa se il video è piaciuto speravo che un'altra città avesse già subito il contagio e conoscesse una cura eh è una notizia pessima non possiamo fare nulla ok eh dobbiamo fare eh no hanno intenzione di isolarci aspetteranno che la peste trasformi la città in un cimitero per poi conquistarla tutto bene mamma sembri triste ma vedete l'altra sì non preoccuparti tesoro la mamma sta bene ma dove sono le guardie chi le allontanate mamma guarda che stanno facendo sul tetto ma chi vieni lì vieni qui cazzo che cazzo sono ninja merda combattimento premi premi sarebbe tasto il clic lo interpreti come mhm premi sinistro per attaccare con la mano destra oppure destro per attaccare con la sinistra al contrario se un'arma un potere è possibile no aspetta per attaccare con la mano destra con la sinistra se hai un potere equipaggiato per attaccare con la sinistra vabbè dai dai esci ho capito ah ok qualunque è messo al contrario fa confondere tieni premuto cittare la sinistra per sbloccare gli attacchi per bloccare per bloccare che ho detto sbloccare vabbè dai dai ct rl vabbè dai dai bingo bingo e muori è sparito cos'è questa ma muoiono almeno quando fanno qui si ha perso di si inghiocchi grazie se tu non fossi stato qui salita non ancora basta mamma no lasciatela ah non si bicchiano le donne non si sbloccare non si sbloccare non si sbloccare no guarda chi era yes non è quello del ritratto no quello del donato ah quello del donato tutto va in pezzi trova 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 Emily proteggila tu puoi farlo sai cosa fare sai cosa fare promettilo promettilo corvo non si può scegliere qua risponderlo baffo oh ma sei un traditore il baffodoro no pensano che siamo stati noi non sono stato io se vabbè ti giuro che cosa hai fatto alle di Emily traditore ma io guardia del corpo assurdo mi sa che abbiamo appena scoperto quale lo scoperto il gioco prendetelo capito si la trama finchia disonorato ecco perché disonorato disonorato che ci ha tradito quello cioè era un nostro amico quello della barca prigione di colore di coldridge prigione di coldridge così la trama codridge bravissimo bravissimo order shop proveo è la tua ultima possibilità firma la confessione ti darò l'esprimazione per salvarti l'anima minchia che bruno ci stanno torturando qui zot per il momento basta fuori diamogli un po' di tempo per pensare però dico io che ha fatto cioè marchiato come le mucche no chiudiamo tuttora l'imperatrice è morta non lo sapevamo sua figlia emily è tenuta nascosta e nessuno saprà mai la verità sei stato sfortunato domani ti giustizieremo ma per una buona causa a questa nazione serve un'autorità forte che guidi i deboli e qui entriamo in gioco noi credimi non c'è niente di personale sai cosa no io questo dobbiamo essere al momento invece ha funzionato ma c'è in un posto sbagliato al momento giusto al momento giusto e qualcuno doveva prendersi la colpa te la parola addio corvo non c'è niente che sennò ti fai finito portatelo in cella ah no mi sembra che ti stava di bollire niente ci hanno imprigionato ci hanno imprigionato tranquillamente tutto buio gatta buia non per questo diciamo così cos'è mancia corvo questo te lo manda un amico grazie tasso è un prosciutto ok possiamo camminare vediamo cosa c'è per terra non c'è nulla io staccherei il video qui ecco il formaggio di giuno si lasciamolo di giuno lo lasciamo già al prossimo episodio ok ragazzi qua c'è una scritta poi c'è in inglese no no sbarra paziatrice sbarria paziatrice no vai so guarda qua ci sono i topini ma che cazzo stavo piscono si ma si sta lavando no no si sta incastrando il muro si sta baggando va bene ragazzi comunque se il video vi è piaciuto pollice in su commentate condividete speriamo che questa serie vi piacerà esatto perché sembra promettere bene siamo all'inizio quindi no ma sembra promettere bene poi il gioco comunque è un bel gioco a quanto mi pare e niente ci vediamo al prossimo video ciao